Successi tanto streminziti quanto importanti per i rispettivi cammini. La domenica di Serie C è anche e soprattutto la domenica delle due formazioni della batte, entrambe vittoriose negli incontri della 27esima giornata. Tre punti fondamentali della rincorsa alla salvezza senza play-out li conquista la Fidelisandria nello scontro diretto giocato in trasferta con la Paganese. Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Piccini, in chiusura di prima frazione i biancazzurri piazzano il colpaccio a quattro minuti dal termine con Longo, abile a sfruttare una palla deliziosa di Latanzio. Buono l'esordio stagionale nella Fidelis di Giuseppe Abruzzese, capitano dell'Andria, la squadra della sua città nella ripresa dopo il rosso di Piccini. Per me è stata una partita importante, sapevamo di affrontare una squadra difficile perché veniva da un ottimo momento, una partita fondamentale per entrambe le squadre. Poi siamo stati bravi a capire la partita, siamo stati squadra in tutte le fasi della gara e questo ci ha permesso di raggiungere un risultato importantissimo. e va dato merito ai ragazzi perché veramente hanno una gara di una maturità tale di aver permesso poi la squadra di raggiungere i tre punti. Un gol di Jovanovic a tempo abbondantemente scaduto permette al Bicele di battere 2-1 al Ventura la Cenerentola Acragas. In precedenza padroni di casa in vantaggio condorsi a metà della ripresa ma raggiunti proprio allo scadere dalla rete dei siciliani di Dammacco. Seconda vittoria di fila per i nerazzurri di Giuseppe Alberga che salgono a quota 33 punti, ipotecano la salvezza diretta e fanno eruzione in zona playoff. Sono molto contento ma mia testa è intera, ancora c'è 10 partite, solo mi interessa squadra, gioco per squadra e questo è l'unico cammino. Prima sconfitta dalla gestione Beppe Scienza per il Monopoli che perde 3-0 a Siracusa e mette fine a una serie positiva che durava addirittura da sei partite. Niente sorpasso in classifica ai danni dei siciliani per i biancoverdi scivolati in settima posizione. Né individualmente né come collettivo siamo riusciti a emergere, sono andati sotto quasi tutti i duelli, segno che la squadra era un po' tirata a livello fisico ma stranamente perché stiamo molto bene da quel punto di vista. Però ripeto, è stato emblematico il fatto di avere tutte le seconde palle, quasi tutte le abbiamo perse e quello sposta l'inerzia della partita, poi ripeto Siracusa ha giocato molto bene. Prima sconfitta in campionato della gestione Fabio Liverani per il Lecce che perde 1-0 al Via del Mare con la Juve Stabia, gol decisivo dei campani realizzato da Mastali nell'ultimo quarto di gara e fallisce da lungo nei confronti del Catania che ha osservato a sua volta il turno di riposo. Fine della serie positiva per i giallorossi dopo 22 risultati utili consecutivi, Salentini sempre a più 7 sui principali antagonisti verso la Serie B ma con una partita giocata in più. Rimanda l'appuntamento con il ritorno al successo la Virtus Franca Villa che però ottiene un buon pareggio in rimonta al Massimino di Catania con la Sicula Leonzio. Padroni di casa avanti di due reti nel primo tempo grazie ai centri di Marano ed Esposito, Pugliesi che pareggiano nella ripresa con i gol di Folorunso e dell'ex bisceglie Partipilo. Va a segno due volte infine il Matera nella trasferta di fondi, prima con Duganzic e poi con Maimone. In pieno recupero, Lucani sesti e sempre più certi di partecipare ai play-off.